Vicenda Brogli elettorale 2018, il Requiem, la democrazia ferita e ci lecchiamo le ferite. Sulle scorse amministrative del 2013 c'è l'ombra di un presunto caso di firme false. Ora anche le amministrative del 2018 vengono poste sotto la lente di ingrandimento dalla Procura a cui il TAR di Catania ha inviato la sentenza che ha annullato la proclamazione del Sindaco e del Consiglio Comunale. Lo afferma l'avvocato Paolo Cavallaro di Fratelli d'Italia. La nostra democrazia è un serio pericolo. I cittadini non possono essere certi nemmeno che il loro voto giunga a destinazione. È chiaro che occorra una rapida rivisitazione della legge elettorale, del sistema degli scutini e pressione dei meccanismi giudiziari che consentono il controllo delle operazioni elettorali, se è vero come lo è che è passato un anno e mezzo per conoscere l'esito e il ricorso del candidato reale. Al di là delle future mosse dell'assessorato regionale, che dovrà dare risposta a diverse interrogative sulle prossime elezioni da svolgere in considerazione della sopravvenuta dichiarazione di decadenza del Consiglio Comunale, il legislatore deve farsi parte diligente per dotare la democrazia di regole chiare e strumenti rapidi di risoluzione dei contenziosi. Prima di riaprire il lagone elettorale, la classe dirigente di ogni partito si soffermi a riflettere su questi temi che devono essere prioritari e condivisi trasversalmente. Per il momento intoniamo il requiem, la democrazia è ferita e ci locchiamo le ferite, conclude Cavallaro.